I numeri in arrivo dall'Italia in questa prima domenica di primavera ci dicono che i morti sono in diminuzione. Restano sempre tantissimi, ma gli esperti interpretano il calo positivamente. Se il numero complessivo è di 5.476, rispetto a sabato si contano 651 decessi contro i 793. I numeri di oggi sono dei numeri minori rispetto ai numeri che abbiamo dato ieri. In controtendenza mi auguro e ci auguriamo tutti che questi numeri possano essere confermati nei prossimi giorni. Non bisogna comunque abbassare la guardia. E per richiamare tutti a un più ampio senso di responsabilità è stata firmata un'ordinanza del Ministro della Salute dell'Interno che vieta di spostarsi in un comune diverso da quello in cui ci si trova. E questo nel tentativo di frenare un nuovo esodo all'indomani del nuovo decreto che blocca tutte le attività produttive non necessarie. In allarme soprattutto la Regione Campania. Il Governatore Vincenzo De Luca ha chiamato il Presidente del Consiglio per segnalare il rischio.